Buongiorno a tutti, io mi chiamo Etzio e oggi vi racconterò di connessioni, connessioni tra nuovi soggetti e nuovi oggetti di apprendimento, connessioni che scaturiscono dall'ascolto, dall'ascolto delle nuove generazioni che ho la fortuna di vivere tutti i giorni al lavoro e in famiglia. Che lavoro faccio? Lavoro per un'azienda leader nel campo dell'automazione e della robotica. E qual è il mio compito? Io sono il direttore dell'Academy, sono responsabile della formazione di 9.000 persone nel mondo e al contempo sono responsabile di aprire le porte dell'azienda verso i giovani, verso l'esterno. Qui mi vedete con la camicia bianca nella cerimonia di conclusione di un Executive Master. Ma è un'esperienza di ascolto che ho anche la fortuna di vivere tutti i giorni in famiglia. Ho quattro figli, ahimè tutti maschi, avrei tanto voluto la femmina e sono disponibile allo scambio, qualcuno avesse una figlia femmina da darmi. E ho tre figli, Francesco, Giacomo, Filippo e il piccolo Tesfa che abbiamo deciso di adottare dall'Etiopia e che vedete in braccio. I miei ragazzi, come tutti i giovani oggi, frequentano un sistema di istruzione che fatica ad affrontare la sfida della conoscenza correlata all'evoluzione tecnologica, correlata a come la quarta rivoluzione industriale sta cambiando totalmente la nostra vita personale e professionale. Eh sì, perché le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, dell'Additive Manufacturing, dell'Internet of Things e della robotica collaborativa stanno davvero cambiando il nostro vissuto e soprattutto il modo con il quale le aziende ideano, producono e distribuiscono i propri prodotti e servizi. Per lavorare con queste tecnologie servono nuove competenze, nuove mentalità, nuovi mestieri. Serve allora un nuovo perimetro formativo, come ho scritto nel mio libro, che metta in connessione nuovi soggetti, i giovani, la scuola, l'università e l'azienda, ma che sappia mettere anche in connessione nuovi oggetti di apprendimento, la tecnologia, le discipline scolastiche e la cultura del lavoro. La storia che vi racconterò oggi è una storia di come le accademi aziendali stiano favorendo queste connessioni e di come anche grazie a dei manufatti innovativi stiano riuscendo a creare nei giovani le competenze del futuro. Iniziamo quindi dalle connessioni tra nuovi soggetti di apprendimento. Alcune iniziative che sono espressione di queste connessioni sono quelle destinate ai giovani talenti e perché no anche ai professionisti. Alcuni esempi, il patentino della robotica, oltre la certificazione delle lingue, la certificazione informatica, un'iniziativa bellissima realizzata dalle accademi aziendali insieme agli insegnanti è questa, mettere a disposizione un programma per offrire ai giovani di dotarsi delle competenze di uso e programmazione di un robot industriale. Sono già 5.000 i ragazzi che in Italia sono entrati in contatto con questa certificazione e quando avranno 18 anni potranno lavorare in una fabbrica con mille robot e guidarli e programmarli. Un'altra iniziativa a frutto di queste connessioni è una summer school, Project and People Management. E sì perché in questa evoluzione tecnologica dobbiamo gestire progetti e essere molto bravi nel gestire le persone. Dieci giorni a Shanghai, Detroit o Bell'Orizzonte per acquisire questi metodi e strumenti e di nuovo realizzati da chi? Da un'accademia aziendale insieme all'università. Ma l'iniziativa che più ci riempie di orgoglio è un corso di laurea dal titolo Innovation and Technology Management. Qual è la novità? È che nello stesso banco sono seduti ingegneri, sono seduti laureati in fisica, psicologi, sociologi, antropologi e ottengono una laurea interdisciplinare a proposito di connessioni. E sì perché questa quarta rivoluzione industriale non deve essere guidata solo dagli informatici e dagli ingegneri ai quali voglio un sacco di bene ma deve essere guidata anche dagli psicologi, dai sociologi, dagli antropologi, dagli esperti dell'uomo perché possano cogliere tutte le opportunità dell'evoluzione tecnologica cercando di mitigare i rischi. Ecco alcune iniziative per i talenti ma ci sono iniziative anche per i giovani che sono già in azienda. Sette anni ormai che viene realizzato questo master Manufacturing 4.0 da Politecnico e da un'accademia aziendale. I ragazzi entrano in azienda, gli si paga un master sin dal primo giorno, ogni mese, tre settimane di lavoro e una di master erogato non solo dai docenti del Politecnico ma dai subject matter expert dell'azienda. E un'ultima iniziativa a espressione di queste connessioni è un executive master dove più di 40 dirigenti provenienti da tutta Europa stanno acquisendo le competenze tecnologiche e gestionali per guidare questa trasformazione. Ecco quindi realizzato il nuovo perimetro formativo dove i ragazzi non sono fruitori passivi di servizi erogati dagli altri ma sono protagonisti dell'innovazione. Dove la scuola, l'università non si limitano a fornire teorie e modelli ma si immergono all'interno della realtà aziendale, della realtà vera ed hanno il loro importante e prezioso contributo. Un nuovo perimetro formativo dove l'azienda non rinuncia alla propria ambizione di creare e diffondere cultura e di trasferirla alle nuove generazioni con quel DNA tipico dell'identità aziendale, quello imparare facendo e quello imparare relazionandosi. Vorrei ora raccontarvi diciamo di altre connessioni, di altre connessioni tra oggetti di apprendimento, discipline scolastiche, tecnologia e cultura di impresa. Tutto nasce quando abbiamo iniziato a sviluppare questo robot. Eravamo chiusi in un laboratorio insieme a tanti giovani e tante persone più esperte e mentre eravamo lì abbiamo detto beh facciamoci guidare da tre principi, vorremmo che questo robot fosse modulare, fosse aperto per un'innovazione aperta e fosse semplice da utilizzare. E mentre eravamo lì presi in questo laboratorio, in questo garage, siamo andati a visitare un'accademia aziendale che ha avuto un'idea intelligente. Ha creato un progetto dal nome La Fisica in Moto. Ha detto usiamo le motociclette per attrarre i ragazzi e insegnare loro quanta fisica c'è dentro una motocicletta. E poi abbiamo pensato alla nostra generazione, quella del passato millennio, perché le motociclette erano un simbolo della nostra generazione. Io e tanti miei amici siamo cresciuti con tre passaggi fondamentali. 14 anni, 16 anni e 18 anni. Questi sono i passaggi che hanno scandito la nostra vita. 14 anni cosa c'era? Il motorino, il cinquantino, avere il ciao, avere il sì, era un traguardo fondamentale. Superato quel traguardo c'erano i 16 anni. 16 anni il patentino della motocicletta. Al 125 io avevo un Kajiva Elephant. Preistoria. E finalmente a 18 anni la patente e la macchina. Su questo aspetto generazionale voglio raccontarvi un aneddoto della mia famiglia. Io e mia moglie eravamo pronti ad affrontare le richieste dei nostri figli rispetto a questi tre passaggi. E quindi a 14 anni ci eravamo preparati per dire a Francesco le motivazioni per le quali non gli avremmo mai comprato una motocicletta. Abbiamo fatto una lista, come quella di Lorenzo, pronti. Francesco non te la compreremo mai per questo, per questo, pronti. 14 anni e Francesco non è venuto a chiederci nulla. Abbiamo detto, furbo Francesco, vuole il 125, aspettiamo due anni, teniamo il foglio, l'abbiamo salvato in una cartella speciale e a 16 anni eravamo lì. Francesco non è venuto a chiederci nulla neanche a 16 anni. Abbiamo detto, cavolo, questo vuole la macchina, vuole una macchina lunga da qui fino alla fine del palco. 18 anni, niente. Abbiamo dovuto mandarlo noi a scuola guida per evitare di occuparci di servizi logistici il sabato sera. E questo cosa ci dice? Che le nuove generazioni sono attratte da valori e da oggetti diversi ovviamente dalla nostra generazione. Sono attratti dai tablet, dai telefoni. Casa mia la sera è un fare divanismo ognuno con il proprio tablet o col proprio telefono su Facebook, su Instagram. Questo è il presente e chissà il futuro. E allora, mentre sviluppavamo quel robot, abbiamo provato a dire, ma il robot non è ancora più affascinante di una motocicletta per attirare le nuove generazioni. E così abbiamo proseguito, dicendolo usiamolo non solo per fare coding, per fare robotica, ma per fare matematica, per fare fisica, per fare quelle materie STEM che sono fondamentali del futuro. E abbiamo costruita quella che noi chiamiamo una Robo Experience. Intorno al robot, una serie di esperienze che mettessero in connessione i giovani e il robot. Laboratori, centri, eventi, programmi. E questo breve filmato vi fa vedere una di queste iniziative. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti.